Ilaria De Bertolis, siamo a Livigno dove ci si può allenare in buone condizioni ogni anno la PT cerca di migliorare per accontentare le vostre esigenze l'anello. Sì, sicuramente qui hanno fatto un ottimo lavoro perché siamo ad ottobre, siamo a 1900 metri e devo dire che è la prima volta che riusciamo a sciare così in basso senza dover andare in ghiacciaio. Purtroppo il clima è un po' strano sti giorni perché c'è stato dei giorni che era caldissimo, dei giorni un po' più freddo, però devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro perché l'altro giorno la pista si stava quasi squagliando, però sono riusciti a sparare tantissimi giorni e l'hanno tutta rifatta. Dunque un applauso a loro che comunque credono in noi e credono in questo progetto della snow farming. Noi siamo molto contenti di riuscire già a sciare, di essere qua, poi qua è comunque un bellissimo posto non solo per sciare ma anche d'estate siamo già stati qua a giugno e ci siamo trovati benissimo. Come stai? Come è l'avvicinamento alla stagione? Ho letto così dichiarazioni diverse di voi che vorreste essere competitive o pronte subito fin dalle prime gare. È sempre stato un po' il problema in generale anche delle vecchie generazioni dei fondisti italiani, quello magari di riuscire non subito a ingranare. Sì, sicuramente noi abbiamo avuto fino adesso diciamo quell'handicap che non potevamo sciare in basso a differenza magari di tutti i nordici che anche loro hanno già le piste. Dunque sciando a inghiacciare a 3000 metri non puoi fare la qualità che invece adesso qua riusciamo a fare. Speriamo di riuscire così ad andare subito forte. Magari adesso noi faremo degli avvicinamenti diversi alle gare tra i maschi e le donne perché noi andremo a Davos, invece i maschi andranno su al nord e poi le prime gare valuteremo se farle o no in base anche alla condizione per comunque trovarci al meglio subito. Ti piace il calendario? Ci sono molte sprinta tecnica libera, chiaramente tu sei una fondista tradizionale se vogliamo comunque più polivalente e da distanze più lunghe però qual è l'appuntamento al di là del mondiale? Ma il momento della stagione in Coppa del Mondo o le gare che ti interessano maggiormente? Ma sì, sicuramente le gare a skating perché è la disciplina in cui vado meglio, sia lunghe che corte non mi fa differenza però punterò tanto a quello, quest'anno visto che ce ne sono tante, dunque speriamo di riuscire a fare bene lì. Si parla di Olimpiadi, c'è questo clima abbastanza che sta coinvolgendo soprattutto anche le vostre terre perché anche il Trentino è coinvolto. Un ricordo che ti viene in mente pensando alle Olimpiadi? Io le Olimpiadi le ho fatte però come dicevamo prima le ho anche guardate in tv. Quelle del 2026 non credo riuscire a farle perché avrei un'età un po' troppo vecchia però sicuramente le Olimpiadi di Torino che le ho vissute da una bambina che le guardava mi hanno emozionato tantissimo. Pensare che nel 2026 probabilmente lo sci di fondo sarebbe in Valli Fiemme sicuramente c'è un motivo di orgoglio per io che sono trentina e comunque penso per tutti gli italiani e andrò a vederle se ci saranno però da come si prospetta è abbastanza una cosa quasi sicura. Un ricordo di una gara in particolare o di un campione che quando eri piccola ti ha davvero spinto ancora di più a seguire la tua passione? Allora se devo pensare all'Olimpiadi mi ricordo a Salt Lake City, la Belmondo, la Lazzutina forse... Si, non so, in stasalita, mi ricordo stasalita che sembrava che andassero su come delle moto quella mi è rimasta impressa proprio nella mente, ecco, quel giallo lì diciamo Grazie ovviamente in bocca al lupo per le gare che si avvicinano Grazie mille a te, grazie, ciao!